La stagione invernale è cominciata benissimo, comincia il 2020 con una nevicata non eccezionale ma una nevicata che ci ha permesso di avviare la stagione quella della neve, quindi impianti aperti, i vacanzieri hanno avuto la possibilità di portare i loro bambini a sciare, quindi scuole di sci, piste di pattinaggio, escursioni guidate, motoslitte, quad, gatto taxi delle nevi, insomma siamo andati bene, ci ha permesso di arrivare alla Befana, quindi grande esodo, gli hotelli sono stati tutti presi dal salto, non si è riuscito a trovare un posto fino a oggi, quindi da lunedì però crolla tutto perché in effetti la neve era pochissima quindi come si può vedere alle mie spalle è quasi finita, aspettiamo la nuova, purtroppo non abbiamo potuto attivare l'impianto di innevamento come tutti ormai come la mia battaglia da anni dove vede la stazione scistica della provincia di Crotone, una delle più belle stazioni scistiche dove nella regione Calabria non ha investito ancora un euro, dove è abbandonata e addirittura la sta portando alla chiusura, la politica non si interessa di quello che è il turismo montano e non si capisce perché, esiste solo la provincia di Cosenza, esiste solo Lorica, Camigliatello e la provincia di Crotone è totalmente assenza da qualsiasi forma di investimento Grazie a tutti